Una nuova visione dei musei. Ecco, l'intento culturale soprattutto dell'operazione. L'intento culturale è quello di trovare spazio per la cultura, spazio per l'esposizione, spazio per l'esposizione di ciò che abbiamo di antico, che fa parte della nostra storia, che descrive il nostro passato dai romani fino al passare per il Medioevo, il Rinascimento, fino al 600 e così via, ma spazio anche per creare una cultura nuova, per ospitare il contemporaneo, l'arte contemporanea, l'arte moderna e anche per dare modo ai ragazzi e ai meno ragazzi di creare nuova arte, di avere laboratori che permettano di trovare la loro vocazione di socializzare anche. Gli spazi della cultura sono questi, sono spazi per vivere che fanno crescere la città, esattamente come ha fatto la Corte anni fa. Lei è assessore ottimista per la realizzazione di questo progetto. Ecco, realmente, quali sono le prospettive poi di esecuzione? Io non ho la sfera di cristallo, per cui non posso dire se uscirà, se scorreremo di graduatoria per il bando in cui ci siamo classificati molto bene, 22esimi nel Dord Italia e 31esimi in tutta la nazione. Non so dire se usciranno altri bandi, però tutti gli elementi ci fanno pensare che le probabilità siano alte e diciamo che dai progetti sull'efficientamento e non solo, che in questi anni abbiamo portato avanti, a volte ci abbiamo preso. Architetto Zampa, un progetto fortemente innovativo per la Corte Amala Testiana e per il Museo Civico di Fano. Ecco, quali sono le soluzioni innovative più evidenti, più, diciamo così, impattanti che ha ideato? Ora abbiamo necessità di far sì che questo museo diventi un punto di riferimento all'interno della città nelle sue funzioni pria di tutto. Per fare questo abbiamo bisogno di rendere il Palazzo Malatesta e il nuovo ampliamento del Palazzo dei Cupis accessibile a tutti. Per fare questo abbiamo pensato a un nuovo corpo di fabbrica che ha linguaggi contemporanei ma che riprende le forme che nei vari interventi che sono stati fatti negli ultimi ormai 600 anni sono andati a intervenire in maniera gentile, in qualche modo generosa, verso il contesto ma rispettando quello che era il linguaggio appunto contemporaneo. Così facciamo noi, cercando di leggere quali sono i bisogni e restituire quello che è un linguaggio contemporaneo. Una nuova innovazione è stata quella invece di introdurre il nuovo verde nell'assetto della Corte. Crediamo che sia fondamentale oggi introdurre una sostenibilità ambientale reale con l'introduzione del verde anche all'interno del tessuto urbano. Ora questa cosa viene fatta col nuovo giardino pensile sopra il nuovo corpo di fabbrica che diventa sia a livello simbolico sia a livello di restituzione rispetto alle isole di calore una nuova linea della skyline fanese non fatto da grattacieli appunto perché non è la vocazione della città ma fatto da una richiesta della contemporaneità. Un'altra innovazione introdotta è quella della moltiplicazione degli accessi. Altri due accessi di cui uno più importante che è la riapertura dell'arco della regina costruito nel 1655 e chiuso poi nel 1929. Ecco noi lo riapriamo per far sì che si possa vivere quotidianamente. Ed infine a parte queste innovazioni veramente strutturali di tutto il complesso qual è il valore culturale che darà al nuovo museo il progetto stesso? Abbiamo pensato alla rigenerazione di questo spazio come un'infrastruttura capace di accogliere le istanze della cittadinanza, degli attori culturali e di rendere il fruitore, il cittadino e il turista partecipe delle attività che si possono poi realizzare all'interno al punto che le funzioni afferiscono più all'idea forse di un museo contemporaneo rispetto a quella di un museo classico attraverso appunto la partecipazione attiva.